Non ce l'ha fatta il bimbo di 5 anni di nazionalità tedesca che è deceduto all'ospedale pediatrico di Padova dove era stato ricoverato in condizioni disperate a seguito dell'incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20 e 30 lungo la A57 tangenziale di Mestre tra il casello Mirano Dolo e la connessione della 4. Apprensione per la sorellina gravissima trasportata a Padova ora in terapia intensiva in prognosi riservata ricoverati anche i genitori. Si è trattato di un tamponamento tra due auto la famiglia tedesca stava rientrando a casa dopo il periodo di vacanza trascorso sul litorale veneziano. Poi il tragico impatto con l'altra vettura per causa ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Mestre sul posto oltre alla polstrada sono intervenuti e hanno lavorato fino a notte inoltrata i vigili del fuoco, il SUEM, il soccorso meccanico e il personale di concessione autostradali venete. Il tratto autostradale è stato chiuso per ore a causa dei mezzi incidentati e per consentire le operazioni di soccorso. Non è escluso che il sinistro sia avvenuto in seguito ad un rallentamento collegato alle lunghe file causate da un precedente tamponamento senza feriti avvenuto intorno alle 18 in un tratto di A4 compreso tra il bivio con la A57 Padova Est.